Questo è un turismo sostanziale, quindi che le persone che verranno al Gela resteranno qui per diversi giorni e quindi porteranno un turismo che porta ricchezza. A me quello che dispiace è che ci sono già i soliti detrattori che stanno incominciando non tanto a criticare l'azione a livello morale che ci può anche stare, ma stanno cercando di denigrare la costa gelese andando a portare avanti discussioni come inquinamento, cosa che sicuramente per una città che vuole rilanciarsi con il turismo è grave. Chi è che ha distrutto l'industria e adesso vuole togliere pure la possibilità di far nascere il turismo, forse è meglio che starebbe un po' zitto. Quella zona che lei ha individuato è interdetta alla balneazione? No, non è interdetta alla balneazione perché la zona interdetta è quella di fronte allo stabilimento, dove siamo oltre, siamo fino alla Dica di Rillo, siamo in una zona che è stata sottoposta a un intervento LIFE dove è di rinatualizzazione perché è una zona dove nasce e cresce la Leopolda Cussonei e è una zona dove ci sono dei problemi di sporcizia dovute alle serre e alle plastiche superficiali, ma in realtà tutta quella zona non presenta problemi di inquinamento più di quella che presenta la zona di fronte al lungomare o a Macchitella. Anzi, proprio per un discorso di correnti che qualcuno ha fatto rilevare, in realtà se dobbiamo pensare allora alle correnti e al tempo che lo stabilimento è rimasto in funzione, perché noi dobbiamo pensare che già da dieci anni le emissioni erano ridotte, erano quasi nulle e che ultimamente da due anni che è fermo, di fatti se vi era un importante inquinamento si sarà già spostato verso le zone di Scoglitti e Marina di Ragusa e non più in quelle zone che abbiamo individuato. Il problema invece di quella zona è una zona che è difficilmente accessibile, è una zona dove ci sono dei fenomeni di erosione, ma il fatto che sia poco accessibile questo garantisce in un certo senso chi è che vuole praticare questo tipo di attività con la massima discrezione, quindi chi è che vuole andare in questo tratto di costa che ricordiamo non è usato da Gelesi, è una costa che di fatto non viene utilizzata, la possiamo rendere una ricchezza e il fatto che sia stata in questi anni in una zona non di interesse garantisce quella discrezionalità che questo tipo di turismo richiede. Sarà anche lei un fruttore dell'aria? Ma per rispetto delle altre persone, considerando la mia vehemenza fisica, credo che sia un po' difficile, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che chi ci crede abbia la possibilità di esprimersi. Come con la famosa frase detta a Voltaire, cioè io non sono d'accordo di quello che dici ma darò la vita per fartelo dire, quindi io sono rispettoso di quello che pensano gli altri, non è detto che la debba pensare necessariamente alla stessa maniera. Grazie a tutti.